I giovani della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro sono finalmente arrivati a Cracovia. È grandissima l'accoglienza che è stata riservata loro qui nella chiesa di Zmak Versani a Painschiego. Nella prima settimana di viaggio hanno già vissuto numerose esperienze estremamente significative. Andiamo a sentire cosa hanno risposto ai nostri microfoni. Dopo un viaggio faticoso e lungo siamo stati accolti da delle famiglie che ci hanno trattato veramente come figli. Stamattina partire è stata anche dura. Detto questo abbiamo trovato anche dei ragazzi della nostra età con la nostra stessa voglia di divertirsi. Quindi abbiamo avuto l'occasione per giocare a calcio, per andare in canoa. Alternato ovviamente a momenti di riflessione di catechesi che sono stati molto interessanti e incentrati sulla misericordia. È andata molto bene, il viaggio benché fosse stato lungo comunque in autobus si è vissuta bene, si è cantato anche nelle soste. Insomma abbiamo iniziato anche a conoscerci di più. Poi quando siamo arrivati nelle famiglie, le famiglie sono state molto accoglienti e sono sentito veramente a casa. Il viaggio è stato bello perché comunque già nel viaggio abbiamo trovato un sacco di pullman, sia italiani che stranieri. E' bello vedere che si fa un viaggio lungo 20 ore di pullman, però ci si ritrova già e quindi già il clima si sente. Soprattutto ora arrivati a Cracovia che si vedono gli striscioni, le cose, è emozionante. Il clima di questa giornata mondiale della gioventù si respira veramente un po' in tutta la città di Cracovia. Allora andiamo a sentire anche come i cittadini stanno vivendo questa GMG. Sono ben consapevole del motivo per cui prenderò parte a questo grande evento. Perché ho tanto da ringraziare il Signore per quello che ha fatto per me in quest'anno. Per questo desidero essere presente. Sicuramente una grande felicità per i partecipanti. Dalla giornata mondiale della gioventù mi aspetto che i giovani inizino a dare maggiore attenzione ai valori della propria vita. Spero che aumentino le file per la confessione e le coppie che si vogliono avvicinare al sacramento del matrimonio. Questo penso sia l'effetto più grande che può produrre questo evento. Sicuramente è un onore che Papa Francesco arrivi nella nostra città. È una grazia. Speriamo che gli abitanti di Cracovia non perdano questa occasione. Posso dire solo che mi sento giovane nello spirito? Cosa mi aspetto? Molte cose. Soprattutto questa domanda va fatta a voi. Cosa vi aspettate voi? Io senza dubbio come prima cosa mi aspetto una maggiore promozione della città di Cracovia. Che diciamoci la verità, è la capitale della Polonia. Varsavia è la capitale solo per denominazione. Credo che questo evento sia un appello soprattutto per gli abitanti di Cracovia. Affinché riescano a ospitare con dignità questi giovani. E' bello il fatto che arrivino molti giovani. Che grazie a questa esperienza possono condividere tra di loro la propria fede e la propria felicità. Sicuramente questo evento è un prestigio per Cracovia. Spero che tutto vada come deve andare. Mi aspetto che lo spirito vinca sulla materialità. E' una promozione della città molto buona. Puntare sui giovani soprattutto perché questa gioventù è il futuro del mondo. Il futuro di Cracovia. E penso che se trovano qui una buona ospitalità e bei posti da visitare, torneranno sicuramente. E penso che la gioventù è il futuro del mondo. E penso che la gioventù è il futuro del mondo. E penso che la gioventù è il futuro del mondo.